Salve a tutti! Generale Kenobi! Dopo i rumor sul ritorno di Ewan McGregor nella saga di Star Wars, sembra ormai imminente l'annuncio ufficiale della serie dedicata alla vita del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, ambientata negli anni trascorsi tra gli episodi 3 e 4 dei film diretti da George Lucas. Secondo quanto riportato da diverse fonti autorevoli, pare che la serie dovrebbe contare 7 o 8 episodi e che sarà distribuita su Disney+. Inoltre, in attesa di ulteriori dettagli che dovrebbero arrivare al D23 Expo, sarebbero trapelati anche il logo e titolo ufficiale. La serie potrebbe intitolarsi Star Wars Kenobi. L'insegnante di Luke Skywalker è uno dei personaggi più apprezzati dai fan, soprattutto grazie all'interpretazione di McGregor, considerato da molti come una delle migliori scelte di casting di tutto il franchise. Per anni, soprattutto dopo il successo del primo spin-off Rogue One e Star Wars Story, si è vociferato di un film stand-alone dedicato a Obi-Wan Kenobi. A questo punto è lecito aspettarsi anche un recast per Luke Skywalker, perlomeno qualora la storia dovesse raccontare il periodo che il maestro Jedi trascorse da Eremita su Tatooine per vegliare sul figlio dell'ex amico e allievo Anakin Skywalker. Sarebbero quindi tre i progetti per la TV dedicati a Star Wars in arrivo su Disney+. Kenobi si aggiungerebbe a The Mandalorian di Jon Favreau e alla serie che avrà per protagonista Cassian Andor. In attesa della conferma ufficiale, siete contenti di rivedere McGregor nei panni del leggendario Obi-Wan? Diteci la vostra dopo esservi iscritti al canale e aver attivato le notifiche, così da poter avvertire sempre il potere della forza di EvryEye.it. Tu eri il prescelto! Era scritto che distruggessi i Sith, non che ti unissi a loro! Dovevi portare equilibrio nella forza o lasciarla nelle tenebre! Dovevi portare! Dovevi portare! Dovevi portare!